E poi facciamo una cosa che è il nostro distintivo, che non dicono loro, che è una cosa straordinaria. I parlamentari in Parlamento propongono una legge, ma prima di proporre il Parlamento la propongono i cittadini fuori. La mettiamo online, la mettiamo in un mese, due, in modo che tutti gli iscritti al Movimento possano partecipare e dire una cazzata. Legge sull'agricoltura, chi viene di un agricoltore ci può dare un consiglio? Noi non ne sappiamo certe cose, magari nella legge c'è una strontata e l'agricoltore dice guarda che è così e così e inseriamo nella legge il consiglio di un'agricoltura. Ma chi l'ha mai fatto? E poi questa è un'applicazione, i parlamentari ascoltano la pianta, i cittadini fuori. E poi c'è la seconda che stiamo preparando, i cittadini propongono una legge ai parlamentari meglio e i parlamentari fanno una legge proposta dai cittadini nel Parlamento. Ma chi l'ha mai fatto? È il principio della nostra democrazia diretta. Non abbiamo bisogno di questa gente qua, è fuori della storia.